Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maten di Tiraotto ed oggi siamo qui in questo nuovo episodio di Minecraft in compagnia di Blade Power Supremo Hi Allora, ragazzi, abbiamo fatto un sacco di upgrade da quando sono ritornato qui a Napoli ho fatto un sacco di upgrade e a parte che sto costruendo questo magnifico castello da quale oggi faremo tutte e quattro le torri, se ci riusciamo sempre e ho fatto anche la farm di Polly cioè, ci sono riuscito, porca miseria andiamo subito a vedere tac, tac tac, tac ok eccolo qua ci stanno tutti quanti qua dentro e butto ogni tanto le uova così spawn appunto una galina qui c'è la farm di Vingle che prosperano sempre di più di quali mucche che scarsiggiano un po' e vabbè, quale pecore che si baciano e fanno sesso allora ragazzi, l'obiettivo di oggi insieme a Blade Power costruiamo un... c'è allora, prima di tutto continuiamo si, poi devo fare un attimo una news ovvero che nella cittadella c'è stato il primo abitante andiamolo a vedere perché ho curato uno zombie dove sta? eccolo là che tiene un'offerta un poco bastarda però fa niente e... ci segue con lo sguardo cioè... ti guarda fisso nel frattempo Blade Power si sta qui buono buono ma fa un culo, ando pure io ecco ciao ciao no, che fai? oddio così procediamo all'infinito ho fame oddio, che fai? ma guarda che non fa niente il carrello da minira, eh ecco qua ho fame allora oddio e ti vuoi buttare il carrello? ok ragazzi andiamo un attimo a dormire insieme a Blade Power e... dormo qua, ma la cittadella la cittadella ok vuoi dormire solo di notte va bene oh, vieni? eh, ho fame eh, aspetta ti do le angurie ti do una bella anguria che fai? sto... bello complimenti ok io dormo benissimo dormiamo oh, ci sei? stai dormendo? no eh, vai a dormire? no va bene allora ti vengo a scegliere no dormi ora fai la nanna si fai la nanna braavo vedi quando ho visto come sei bravo ma mai come ti? va bene, io sono bravo ok ok dove sono spawnato? eh dove sei spawnato? ho dormito e sono spawnato di per la casa aspetta vieni a vedere mi sembra che ti dovresti buttare nel fiume buttati nel fiume no mi distruggi la casa così va bene no aspetta basta che ripiazzi i blocchi allora ragazzi andiamo a prendere un attimo tutta la cobblestone che abbiamo farmato io e ghost clown e bad power benissimo eccola qua benissimo mettiamo a cuocere uno stack di qua prendiamoci un attimo il ferro un pezzo un altro stack di qua blade power se voi fate l'armatura completa in ferro ok? si mi sto modificando un attimo la casa qua allora benissimo andiamo a fare il castello vai allora 3 2 1 via ok entriamo nell'ingresso reale e io direi per ora incominciamo a levare tutta questa sabbia dopodiché possiamo pure concludere il video perchè oggi non ho il timer quindi è grave mi sento molto a disagio allora benissimo vai leviamo tutto mamma mia ragazzi ci vorranno gli anni secondo me eh cioè abbiamo iniziato un progetto che finisce dopo domani allora però se ci azzecchiamo a minecraft può darsi che lo finiamo più presto allora ok dai benissimo adesso ho fatto qua che devo fare? ti sei fatto armatura in ferro? se me la vuoi dare ah ma perché non te la vuoi craftare? no eh craftala no perché non sai crafting sì lo so ah ok ok meno vai no pensavo che non serviva il crafting cioè ah che gioco a fare a minecraft? che detto? che giocavo a fare a minecraft? appunto allora 1 2 entri mamma mia quanta sabbia che dovremmo levare? vai leviamola vai secondo me devo inchantare la palla in pietra ok ma inchantiamo un po' di palla in pietra dai andiamo andiamo questo è il più grande progetto della nostra vita su minecraft ragazzi sento i rumori di abblade power i rumori tra tutto stai zitto non parlare sento dei strani rumori eh chissà che fai due a cosa eh cacca poi cacca e poi è sempre cacca non hai la legna? no ma hai un miliardo di legna e dove? ah l'inventario non mi può darsi aspetta 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 ecco qua tieni oh dietro di te va bene aspetta ecco qua via allora bene ora che ci toccava fare? un po' di bastoncini e quattro pali in pietra due livelli efficient ah durezza c'è durezza benissimo anche se avrei avrei preferito efficienza però è sempre buono durezza 1 durezza 1 accontentati bene io continuo i procedimenti al castello dove l'hai nella libreria? sta dietro alla porta a sinistra cioè sembra sembra che sto parlando con un ospite che viene a casa mia allora benissimo benissimo vai durezza almeno si scassa meno in fretta ok può darsi che nel prossimo episodio vedremo già tutto tutta la sabbia levata eh ragazzi ok facciamo tutti i contorni non levo gli spazi con le torce li leveremo poi mamma mia progetti giganteschi non ho mai fatto un castello così grande mai mai in tutta la mia vita mai allora 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 benissimo vai vedete che stai a fa' sto incantando la roba bene bene caso mai ci sta una miniera nuova che ancora devo esplorare sotto se vuoi vado a vedere che è appunto ragazzi per prendere tutto questo papello di cobblestone io e ghost clown e bleed power abbiamo scavato tantissimo vero? sempre sempre oramai sai dire solo questo è certo allora benissimo quindi poi ragazzi a livello di farm siamo messi benissimo e direi che l'episodio non fischiare cazzo non fischiare ah porca otroia allora ragazzi direi che per questo episodio di minecraft è tutto noi ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui con blade power un abbraccio maternity bella grazie 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 grazie